Lo dice la race, lo dice la classifica confrontata con quella dell'anno scorso. Lo dicono i risultati ottenuti in questi primi tre mesi e mezzo di 2024. Yannick Sinner è il giocatore più forte sulla piazza in questo momento nel tennis. Le prestazioni dicono la stessa cosa, più il tempo passa più mi ricorda un certo Nadal. Prendetemi un po' con le pinze però. E proprio in questo periodo stavo vedendo diverse persone, diversi articoli, paragonare le caratteristiche di Yannick a quelle dei big three. Esagerando però a parer mio in certi passaggi. Perché certo si può paragonare la calma olimpica e la compostezza dell'alto tesino con quella di Roger Federer, ma in termini di caratteristiche di gioco a mio avviso è veramente complicato metterle a confronto. Yannick di fatto è un giocatore a sé. È innegabile però, e qui mi ricollego a quello che stavo dicendo poco fa, che in questo 2024 stia ricordando sempre di più un certo Rafa Nadal. In quanto ha divario tra sé e l'avversario nel punteggio delle partite. Lo spagnolo infatti è sempre stato un giocatore in grado di chiudere rapidamente le partite, distruggendo tatticamente gli avversari e anche sul tabellino. Se ci fate caso, è sempre più raro vedere una partita di Yannick Sinner che va al terzo set. Ormai io stesso mi sono abituato a tenermi libera una sola ora e mezza massimo durante le giornate in cui gioca Yannick. E questo proprio perché io sono conscio che in questo momento ciò che può impensierire l'alto a tesino è una cerchia ristretta dei giocatori e un certo tipo di prestazione eseguita da questi giocatori o da altri. Fino Rasinner ha perso solamente due partite, come ben sapete, in questo 2024. E probabilmente solo la prima può essere considerata giusta. La partita di Indian Wells contro Carlito Sakharas è stata giocata oggettivamente meglio dallo spagnolo. Che era sostanzialmente in modalità ingiocabile quella settimana, quelle due settimane. Un incontro che Yannick iniziò molto bene vincendo il primo set 6-1 e che però finì piuttosto male prendendo 6-3, 6-2. Quella è stata una partita che mi ha fatto dire ok, qui ci sta a perdere. Alcaraz poi rientra in quella cerchia ristretta di giocatori in grado di dare fastidio a Sinner. E poi lo abbiamo visto anche nel 2023 quanto lo spagnolo sia a suo agio nei campi in California. Tuttavia la sconfitta di sabato sul Ranieri III di Monte Carlo ce l'ho ancora qui ragazzi, ce l'ho ancora qui. Mi ha fatto veramente girare i cul... L'episodio ormai se mi seguite penso che lo conosciate già tutti in quanto amanti di tennis come me. Non stiamo nemmeno a discutere sulla gravità dell'errore commesso dal giudice di sedia e dal giudice di linea perché il replay è eloquente. Ma più che altro io non vorrei che si avverasse una mia profezia di qualche video fa. Infatti se vi ricordate bene, se vi ricordate quel video, in occasione della squalifica di Rublev a Dubai e di altri errori dei giudici nella semifinale di Acapulco tra Rune e Rude, in mancanza dell'occhio di Falco io infatti dissi. È incomprensibile quindi secondo me che nei tornei ATP ci siano ancora nel 2024 questa disparità. E non mi sorprenderei se i giocatori d'ora in poi iniziassero a stilare i loro calendari in base a quali tornei hanno il Falco e quali no. Eh beh, sarebbe veramente, veramente un male per lo spettacolo e per i tornei. L'inserimento dell'occhio di Falco per certi tornei sarebbe una spesa ingente, sì. Ma alla fine ciò che conta è che i giocatori si sentono a proprio agio a giocare nel tuo torneo. E se si sentono a proprio agio è chiaro che poi ci ritornano nel tuo torneo. Però se temono che l'assenza della tecnologia possa inficiare i loro risultati è normale che non vogliono sprecare energie, tempo e soldi per partecipare a questi eventi. Comunque tutto questo per ribadire che la semifinale di Monte Carlo tra Stefanos e Tsitsipas e Yannick Sinner è stata indubbiamente decisa in parte anche da questo episodio qua. Di fatto l'inerzia del terzo set era tutta dalla parte dell'italiano che addirittura poteva andare in vantaggio di due break. Ma poi è successo quel che è successo e il greco si è preso tutto il momentum. E vabbè è andata così. La partita di Sinner comunque è stata ottima a mio avviso perché ci sta a perdere un set contro la vera versione di Tsitsipas sulla terra di Monte Carlo e poi è stato bravissimo a ribaltarla. E poi dopo la partita a mentefredda mi so detto e vabbè ora per battere Sinner servono robe come il riti voodoo o aiutini da parte dei giudici. Ovviamente ridendoci su. E però alla fine è anche così in parte. Stefanos lo sapeva l'ha anche detto nella conferenza stampa dopo la partita. Quella del principato secondo me è una sconfitta che pesa fino a un certo punto perché è una sorta di piccola macchia che sporca una settimana a dir poco perfetta fino alla semifinale. Per me gli anni che può dominare la stagione sul rosso a partire da Madrid che è il prossimo torneo che giocherà vista anche la dubbia presenza del doppio campione in carica ovviamente Carlos Saccaraz. Ciò che va tenuto d'occhio però è la condizione fisica di un altro spagnolo. Uno spagnolo che ieri ha vinto 6-2-6-3 su Flavio Cobolla rientro sulla sua terra dopo praticamente due anni di assenza. Il suo nome è proprio Rafa Nadal già menzionato in questo video che privo di un ranking che possa garantirgli un posto da testa di serie potrebbe essere una mina vagante molto pericolosa soprattutto in questi mille da due settimane e poi a Roland Garros. Immaginate ragazzi un Sinner Nadal come primo turno a Roma. Vabbè vabbè speriamo di sì e speriamo di no. Meglio... meglio non pensarci. Ciao ragazzi. Beep Beep